Mariella Di Guardo, la carta di Pisa, questo codice etico ha infiammato il Consiglio Comunale negli ultimi giorni, il tema è forte e delicato e anche perché comunque dietro questo tema ci sono anche degli equilibri politici in ballo non indifferenti? Che il tema abbia infiammato il Consiglio Comunale, abbia attratto l'interesse del pubblico è molto importante perché è giusto che il Consiglio Comunale sia partecipato, che i consiglieri comunali partecipano attivamente al dibattito, che ci sia un'interazione tra pubblico e consigliere, questo lo ritengo sempre un fatto positivo. Ciò che invece mi fa sbalordire, veramente sbalordire, è il fatto che temi così scontati che già sono contenuti nelle norme imperative e cogenti del nostro ordinamento giudiziario, del nostro ordinamento giuridico e ritengo anche nell'ordinamento giuridico di tutti i paesi a carattere democratico, ciò che mi fa sbalordire è proprio l'interesse a questa carta di Pisa, poi denominata nel 2014 carta di avviso pubblico, un interesse strano come se delle persone all'improvviso si fossero svegliate da un sonno durato circa 50 anni, come se delle persone assenti totalmente dalla quotidianità, che non guardano la stampa, che non seguono la televisione, avessero scoperto delle norme che invece esistono da sempre. Non ci può essere un clima di giustizialismo, cioè non possiamo noi sostituire il principio di innocenza sancito dalla Costituzione con il principio di colpevolezza che a mia memoria forse risale al codice Rocco. Quindi non capisco, non credo che sia stato fatto per una questione di giustizialismo, lo spero francamente, anche perché l'approvazione di una simile norma, l'ho detto anche in Consiglio Comunale, di una simile regola, potrebbe comportare durante il periodo pre-elettorale un clima di caccia alle streghe, cioè si potrebbero anche costruire dei reati ad hoc per poter eliminare un avversario politico. Quindi la garanzia costituzionale noi non la dobbiamo negare a noi stessi, perché io mi sento tutelata dalla Costituzione che amo, dai principi politici. Infatti quando si parla di modifica alla Costituzione mai si parla dei rapporti della prima parte della Costituzione, rapporti politici, etico-sociali, la libertà, i guai a intaccare queste norme, perché se noi cominciassimo ad aprire le maglie e superare, andare oltre la Costituzione, non ci dobbiamo poi, come dire, lamentare se un futuro governo sottopone al referendum anche la prima parte della Costituzione. E poi mi sono meravigliata della presentazione di questo documento e di questo clima che si è creato, perché insomma qualcuno diceva che noi avremmo dovuto esultare per questa carta di avviso pubblico, carta di Pisa, che come ribadisco già è nelle norme, mi sono meravigliata perché il garantismo è un principio della sinistra e quindi francamente si rimane un pochino disorientati di fronte al fatto che certi settori, diciamo, certe fasce politiche della comunità ripostese abbiano presentato un documento del genere sovvertendo i principi propri della sinistra.